Buonasera, abbiamo ritrovato un nuovo appuntamento con Milano Pavia News, edizione Milano. Andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. E' passato un anno dall'incendio che provocò la morte di sei persone all'interno della RSA Casa per Coniugi di Milano. L'inchiesta della procura non è ancora chiusa, sono sei al momento gli indagati. Sono iniziate oggi a Milano le audizioni delle nove donne che accusano un medico di violenza sessuale. L'uomo, un 41enne, che ha lavorato anche a Lodi, era già finito agli arresti domiciliari. Il caso del 34enne morto davanti alla sede di Sky, in un video si vede un vigilante sferrargli due pugni in faccia. La procura ora ha modificato l'accusa in omicidio preterintenzionale. Continuano le polemiche per il caos concerto in zona San Siro a Milano. Alcuni residenti si sono visti vietare il parcheggio sotto casa perché gli spazi erano riservati agli organizzatori degli eventi. In Milano un'altra protesta dei residenti, tra via Marsale e Corso Garibaldi, contro l'abbattimento di un acero. Il comune ha già deciso la data, ma si tratterebbe di un albero monumentale. Questi dunque i titoli principali della nostra giornata. In apertura il ricordo delle sei vittime dell'incendio all'RSA Casa per Coniugi di Milano. L'inchiesta rimane aperta, al momento ci sono sei indagati. È passato un anno dall'incendio che provocò la morte di sei persone all'interno della RSA Casa per Coniugi di Via dei 500 a Milano. Un anno dopo si attende giustizia per quelle morti. La procura sta conducendo l'inchiesta che però non è ancora stata chiusa. Sono sei al momento gli indagati, la direttrice della struttura, tre dirigenti della cooperativa che aveva in gestione la RSA e due funzionari comunali. Il lavoro degli inquirenti segue due binari. Da una parte capire come si è propagato il rogo, probabilmente partito dalla camera di uno degli ospiti, e dall'altra ricostruire l'applicazione delle procedure antincendio, per le quali si sospettano alcune possibili lacune. Non possiamo permettere che Laura, Paola, Michael, Anna, Loredana e Nadia siano dimenticati. Che la vicenda drammatica della loro morte cada nell'oblio. Queste le parole pronunciate lunedì mattina da Monsignor Carlo Azzimonti, vicario episcopale dell'Arcidiocese di Milano, che ha celebrato una messa in ricordo delle vittime. Siamo qui perché attendiamo che sia fatta luce su quanto accade un anno fa, che siano individuate le responsabilità di chi non ha saputo garantire la sicurezza e l'incolumità di quegli ospiti della casa per coniugi, ha poi aggiunto Monsignor Azzimonti. Alla funzione era presente anche l'assessore al welfare Lamberto Bertolè, in rappresentanza del Comune di Milano. Dopo quella tragedia, Palazzo Marino ha cambiato le modalità con cui viene assegnata la gestione delle case di riposo cittadine, inserendo nuovi parametri con cui si chiede maggiore attenzione alla manutenzione e alla prevenzione in materia di sicurezza. Restiamo sulla cronaca. Oggi a Milano sono iniziate le audizioni delle nove donne che hanno accusato un medico di continuità assistenziale di violenza sessuale. L'uomo ha lavorato oltre che a Milano, anche in provincia di Lodi. Un violentatore seriale privo di freni inibitori. La definizione non è quella data da qualche testata alla ricerca di sensazionalismi, ma da nove donne che in queste ore stanno ricostruendo i fatti di cui sono state vittime negli scorsi mesi. All'interno del Palazzo di Giustizia di Milano, il GIP Cristian Mariani ha infatti iniziato l'audizione delle nove donne che stanno accusando un medico di continuità assistenziale, un'ex guardia medica, di violenza sessuale aggravata. La decisione di accogliere la richiesta di incidente probatorio, con atti trasmessi anche da Lodi a Milano, è arrivata proprio per cristallizzare le dichiarazioni in vista del processo. Nei mesi scorsi, l'uomo, un 41enne residente a Varese che ha operato tra Lodi e Milano, era già stato colpito da due ordinanze, di cui una agli arresti domiciliari, nell'ambito dell'inchiesta seguita dalla PM Alessia Menegazzo. Ma l'indagato dovrà rispondere anche di falso per aver alterato alcuni certificati. Secondo le ricostruzioni, i fatti si svolgevano bene o male sempre con la stessa successione di eventi. Le donne si presentavano in guardia medica con sintomi di vario genere, dalla pressione alta all'influenza o una tachicardia. Il professionista le faceva quindi spogliare, le faceva stendere sul lettino con la scusa di visitarle, per poi violentarle. E nell'approccio, il medico avrebbe usato quelli che, nelle carte giudiziarie del GIP, sono stati definiti metodi fraudolenti e repentini per superare la resistenza delle donne, con abuso della professione medica. Inizialmente i casi erano quattro, ma dopo il primo arresto le presunte vittime erano salite a sette. Ora le denunce sono arrivate a nove. Durante le indagini si era ipotizzato che il 41enne avesse già agito durante il Covid in tre diversi ambulatori di San Giuliano Milanese, San Donato Milanese e Milano, e, in un caso, anche presso l'abitazione di una delle donne. C'è una svolta nell'inchiesta sul caso della morte del 34enne Giovanni Sala, davanti alla sede di Sky a Milano. La procura ha modificato l'accusa da omicidio colposo a omicidio preterintenzionale. C'è anche un video dove si vede una delle due guardie giurate sferare dei pugni alla 34enne. È passato quasi un anno da quando, nella notte tra il 19 e il 20 agosto, il 34enne Giovanni Sala muore poco dopo mezzanotte, dopo essere stato bloccato da due vigilantes, mentre tentava di introdursi nella sede di Sky, nel quartier generale di Rogoredo. Inizialmente l'indagine era stata aperta per omicidio colposo, dove figuravano come indagate le due guardie. Ora però, dopo 11 mesi di indagini, un frame recuperato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblicato sul giorno di cui vi mostriamo la foto, sembra restituire una situazione molto diversa. Nello scatto si vede infatti una delle due guardie sferrare due pugni al viso del 34enne, un fatto che ha portato la procura a modificare l'imputazione da omicidio colposo ad omicidio preterintenzionale. Nel video si vedono anche diversi tentativi del giovane, in evidente stato di alterazione, di provare a varcare il cancello di ingresso degli studi e i due vigilantes che più volte provano a contenerlo, per poi stenderlo a terra e per 7 minuti bloccarlo con un ginocchio sulla schiena. Da lì poi non c'è più niente da fare, l'uomo smette di respirare e inutili saranno i tentativi, prima delle due guardie e poi dei soccorritori, di rianimarlo. Il 34enne era solito frequentare un luogo di spaccioli vicino al cosiddetto bosco della droga di Rogoredo e aveva problemi di tossicodipendenza e così come accertato dall'autopsia, quella sera Giovanni Sala aveva assunto in particolare cocaina e cannabinoidi. L'accusa punterà il dito contro i due vigilantes definendo l'aggressione un'aggressione gratuita, poiché non c'era alcuna necessità di tutelare persone o cose da pericoli concreti. In più, secondo il PM Alessandro Gobbis, erano tentativi di una persona alterata da alcol e droghe che potevano essere contenuti senza che la vittima divenisse bersaglio di pugni. Per il magistrato, le guardie giurate avrebbero dovuto limitarsi a chiamare le forze dell'ordine. La procura ha così anche disposto una trascrizione delle telefonate che i due vigilanti hanno fatto alla polizia e ai soccorsi e una coppia dei messaggi contenuti nei cellulari. La procura di Milano ha chiesto il processo per Assin Amis, il 30 settembre marocchino, che la sera dell'8 maggio scorso alla stazione di Lambrate aveva ferito gravemente a coltellate il vice ispettore della Polizia di Stato Cristian Di Martino, che riuscì a salvarsi grazie all'intervento dei colleghi a diverse operazioni chirurgiche al Niguarda. Amis dovrà rispondere di diverse accuse, tra le quali il tentato omicidio, resistenza e lesioni nei confronti di altri due agenti. L'udienza preliminare davanti al gruppo Silvia Perrucci è stata fissata per il 16 gennaio prossimo. Ed è stata trasferita invece dal carcere di San Vittore, dove si trovava da due anni, a quello della frazione Piccolini di Gevano, Alessia Pifferi, la donna condannata per aver lasciato morire distenti la figlia Diana. Le motivazioni di questo trasferimento però non sono state rese note. Trasferimento con polemica per Alessia Pifferi, la 39enne condannata in primo grado all'ergastolo per aver lasciato morire distenti la figlia Diana di un anno e mezzo. La donna è stata portata nel weekend dal carcere di San Vittore, dove si trovava da due anni, a quello della frazione Piccolini di Gevano. Le motivazioni del trasferimento non sono state rese note, l'unica certezza è che non si è partiti dalla richiesta della sua difesa. La sua avvocata Alessia Pontenani ha infatti riferito di aver avuto la notizia dalle agenzie di stampa e si è definita dispiaciuta per quanto accaduto. La legale, in alcune dichiarazioni rilasciate a fanpage, ha poi aggiunto alcuni elementi. Non sappiamo le motivazioni di questo trasferimento punitivo a 50 chilometri da casa. Queste le parole di Pontenani, che poi ha aggiunto, forse dava fastidio. Aveva persino iniziato a scrivere lettera alla madre, ci si dedicava tutti i giorni, ma non ha mai, mai ricevuto una risposta da lei. La contrapposizione tra Alessia Pifferi e la sua famiglia, che si era costituita parte civile, è stato uno dei temi del processo di primo grado. La difesa dell'imputata insisteva su carenze nell'assistenza alla donna, per cui sosteneva l'esistenza di un deficit cognitivo, mentre la madre e la sorella non si erano mai tirate indietro dal ritenere la 39enne direttamente responsabile della morte della piccola Diana. L'avvocata Pontenani denunciava da tempo una situazione di difficoltà per la sua assistita all'interno del carcere di San Vittore. Nelle sue ultime dichiarazioni a fanpage, la legale ha riferito che ultimamente Pifferi aveva problemi di salute e doveva fare dei controlli, oltre ad aver riscontrato quelli che ha definito lividi strani su mani e gambe e punzecchiature di cimici da letto. La destinazione di Alessia Pifferi, il carcere della frazione Piccolini di Vigevano, è effettivamente a una cinquantina di chilometri da Milano, quindi piuttosto distante dalla zona di origine della detenuta. È però anche il carcere con sezione femminile più vicino a Milano, oltre a Bollate. Alessia Pifferi quindi è stata effettivamente trasferita in una delle strutture più vicine a quella dove si trovava da due anni. Il vero interrogativo è perché si è stata allontanata da San Vittore. Un incendio è stato appiccato domenica sera in una cella a secondo piano del carcere minorile Beccaria di Milano. Alcuni detenuti avrebbero dato alle fiamme degli effetti personali. I vigili del fuoco hanno però spento rapidamente l'incendio. Due agenti di polizia penitenziaria hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'episodio è rimasto circoscritto e per fortuna non ha dato adito a ulteriori momenti di tensione. Nella giornata di domenica sono stati tre gli incendi in carceri minorili in Italia, oltre a Milano. Episodi simili si sono verificati a Roma e Nisida. Parliamo di un problema che riguarda il centro drop-in che si occupa di dipendenze, dei senza tetto. Un centro che è fondamentale perché è l'unico che si occupa di questa tipologia di interventi nel centro di Milano ma è anche un luogo che negli ultimi mesi si è visto ridurre drasticamente i fondi a causa di un taglio. Da parte di Regione Lombardia. Quando si parla di dipendenze esistono fondamentalmente due approcci al tema. Uno repressivo, l'altro indirizzato al reinserimento sociale. Negli ultimi anni Milano, soprattutto attraverso il Comune ma non solo, ha scelto in maniera netta quest'ultima strada permettendo le attività di luoghi come il drop-in di Piazza 25 Aprile, gestito dalla fondazione Somaschi Onlus che accoglie ogni giorno decine di senza tetto con problemi di dipendenza cercando di coinvolgerli su percorsi di riscatto sociale che possano portare magari a una casa o a un lavoro. Le persone che vengono a drop-in sono persone senza dimora con problemi di dipendenze e quindi qui vengono perché possono soffrire di un caffè, un tè caldo, possono avere uno spazio di decompressione. Hanno la possibilità di fare la doccia, di lavare il vestiario, di fare piccole operazioni tipo di cucito, se hanno problemi di piccole medicazioni, portano il materiale usato relativo al consumo di sostanze e ne ricevono di sterile. Nell'anno e mezzo sono girati circa 1600 persone tra uomini e donne e gli accessi ogni giorno sono tra i 55 e i 65 come media. Le risorse su cui il drop-in fonda la propria attività provengono oltre che dal Comune anche da privati e soprattutto dalla Regione. Pochi giorni fa però è stata pubblicata la graduatoria delle realtà che si occupano di dipendenze e il drop-in è risultato tra quelle escluse. Tutto ciò ha una duplice conseguenza. Da un lato rallenta drammaticamente le attività del centro e ne impedisce un ampliamento, soprattutto in ottica sanitaria. Dall'altro toglie risorse a uno dei principali, se non l'unico luogo di Milano, che si occupa di dipendenze nel centro della città, in un'area peraltro vicina a due importanti stazioni come Garibaldi e Centrale, luoghi abitualmente frequentati da senza fissa dimora. Avevamo progettato di riuscire ad avere per tutte le aperture o una figura di infermiere o una figura di medico sempre presenti per fare un po' anche di accoglienza in quel senso, continuativamente, non in maniera spot. È ovvio che con questa scelta di non finanziare il progetto qui sul drop, questa cosa non potrà essere messa in atto. E anche il Comune di Milano ha lanciato il suo appello alla Regione affinché faccia retromarcia. Chiediamo che la Regione Lombardia trovi una soluzione e risponda all'appello del coordinamento nazionale del Comunità di Accoglienza per finanziare questi progetti storici della nostra città. Parliamo adesso di autonomia differenziata, tema che continua a suscitare polemiche politiche. Le opposizioni hanno proposto un referendum abrogativo alla Corte Costituzionale. Il Presidente di Regione Lombardia Fontana ha spiegato che però questa proposta non preoccupa. Un referendum sull'autonomia non ci preoccupa minimamente. A parlare è il Presidente di Regione Lombardia, Teglio Fontana. L'argomento? La richiesta di un referendum abrogativo presentato dalle opposizioni alla Corte Costituzionale per chiedere l'allunamento della legge Calderoli appena approvata in Parlamento sull'autonomia differenziata. Fontana conferma così la sua assoluta certezza nella costituzionalità della legge che, secondo il Presidente Lombardo, ha solo aggiunto dei passaggi per salvaguardare il ruolo e la figura del Parlamento. Il merito di questa riforma sta nella Costituzione. Quindi credere che si possa chiedere il referendum sulla Costituzione sembra abbastanza anomalo. Però va bene tutto quello che loro proporranno. Se arriveranno a questi punti vedremo cosa si potrà fare. E poi la legge Calderoli, come ho già detto tante volte, è soltanto una legge procedurale. Ma non solo una legge procedurale, una procedura che ha aggiunto passaggi davanti al Parlamento per salvaguardare la figura e il ruolo del Parlamento. Quindi sinceramente loro avevano approvato delle cose molto più spicce, molto più sbrigative perché l'accordo Bressa-Bonaccini prevedeva un solo passaggio al Parlamento, non parlava dei LEP, non parlava di tutte queste cose. Per Fontana inoltre non ci sarà bisogno di mandare formalmente una lettera, così come è fatto dal Presidente del Veneto Luca Zaia, per chiedere al Governo le materie con le quali la Lombardia vuole iniziare il processo di autonomia differenziata perché ciò che vale per la Regione è una lettera mandata ai tempi dall'allora Presidente Maroni. Quando inizieremo? Beh, ma noi non dobbiamo iniziare, la proposta è già iniziata. Se lei legge il provvedimento, la legge del Ministro Calderoli, in realtà si salvaguardano tutte le iniziative portate avanti fino ad oggi. Quindi a suo tempo Maroni fece una richiesta in cui chiedeva tutte e 23 le materie, oggi ovviamente non potremo proseguire, dovremo ridurre, ci incontreremo nei prossimi giorni e stabiliremo, ma è inutile muovere o fare ulteriori richieste, ripeto, perché tutte le attività svolte, tutte le interlocuzioni che ebbi a suo tempo con i vari ministri che si sono succeduti sono assolutamente tutte valide ancora oggetto della prosecuzione di questa trattativa. Nuova puntata delle polemiche per il caos concerti in zona San Siro a Milano riguarda la questione parcheggi e soprattutto la questione parcheggi per i residenti che sono tuttora sul piede di guerra. Come se non bastassero il volume alto dei concerti e la maria umana che invade le strade sotto casa un giorno sì e l'altro no. Nello scorso fine settimana i residenti dell'area degli Ippodromi e del Meazza si sono ritrovati davanti a una nuova sorpresa. Già, perché se è vero che da un lato il comune continua a lavorare alle nuove regole per la mobilità con le zone rosse e quelle verdi che dovrebbero impedire ai non residenti di anche solo avvicinarsi alle aree dei concerti, dall'altro lato, come quasi sempre accade quando si parla di regole, un'eccezione c'è. E così alcuni residenti si sono visti vietare il parcheggio sotto casa in quelle che sono sì delle strisce blu, ma per le quali gli abitanti hanno un lasciapassare ad hoc. Il motivo? I loro spazi per la sosta erano riservati ad alcuni degli organizzatori dei concerti. Si può solo provare ad immaginare la rabbia e la frustrazione degli abitanti della zona che pur provando a parcheggiare ugualmente nei posti che sono loro di diritto, in quanto residenti, si sono visti rispondere da un addetto alla sosta che solo i possessori di un certo pass speciale potevano parcheggiarvi. Non solo, se avessero lasciatoli la macchina, sarebbe stata chiamata la polizia locale che avrebbe combinato le sanzioni ai veicoli sprovvisti del pass. Sentita la stessa polizia locale, i residenti hanno avuto conferma che quei parcheggi, almeno temporaneamente, non erano nella loro disponibilità. Non solo siamo vittime del traffico congestionato che ci impedisce di raggiungere la nostra abitazione o dei parcheggi indiscriminati su marciapiedi, aiuole, strisce e portoni, attaccano i comitati cittadini, ma ora dobbiamo anche assistere alla mercificazione del suolo pubblico per garantire a chi va a un concerto di parcheggiare, a scapito di chi paga le tasse per vivere a Milano. Al fianco dei cittadini, il consigliere comunale della lista sala Enrico Fedrighini, che ha annunciato di voler presentare una formale segnalazione e una richiesta di intervento a Gerardo Colombo, ex magistrato e oggi presidente del Comitato per la Legalità e Trasparenza del Comune di Milano. Si tratta di aree pubbliche sottratte alla sosta dei residenti, spiega Fedrighini, che vengono inspiegabilmente concesse agli organizzatori dei concerti. Mi pare, conclude il consigliere comunale, un'iniziativa poco trasparente e poco rispondente all'efficienza amministrativa, lontana da qualsiasi concetto di utilità pubblica. E a Milano altri residenti protestano per l'abbattimento di un albero, un acero, che c'è tra via Marsala e Corso Garibaldi, per il quale è già stata decisa la data dell'abbattimento, che però sarebbe un albero monumentale. Sentiamo. Una croce con la bomboletta arancione e un cartello bianco plastificato formato A4, sopra poche righe macchiare, si avvisano i cittadini che questo albero sarà abbattuto il giorno 8 luglio 2024. Siamo in via Marsala, angolo Corso Garibaldi, e l'albero che rischia di essere abbattuto è l'acero all'interno del cortile della chiesa di Santa Maria incoronata, una pianta di circa 20 metri giudicata dal comune di Milano a rischio crollo. L'acero però, nonostante sulla carta non sia ufficialmente censito come tale, per le sue caratteristiche particolari e per la sua età è da considerarsi un albero monumentale che non dovrebbe essere abbattuto, ma anzi venire preservato. Un albero che rispetto a tanti altri in città che sono stati devastati dalla tempesta del 25 luglio dell'anno scorso, ha resistito perfettamente alle folate di vento da 100 km orari. Comitati, associazioni, consiglieri comunali e cittadini si sono così dati appuntamento lunedì mattina sotto l'albero per evitare a tutti i costi un possibile abbattimento della maestosa pianta. Lo stesso regolamento del verde del comune di Milano che il comune di Milano si è dato prevede per tutti gli alberi centenari, monumentali, storici, la definizione è ampia, il divieto di abbattimento e l'obbligo della messa in sicurezza. Messa in sicurezza vuol dire che ad esempio quest'albero potrebbe avere una stampella, un cavo d'acciaio come tanti alberi hanno nei parchi milanesi e di sicuro non essere abbattuto. Durante il presidio è poi arrivata la comunicazione che le operazioni di abbattimento dell'albero sarebbero state rimandate per un supplemento di indagine dall'assessora comunale alverde Elena Grandi però non sembra ci sia la volontà di mettere in sicurezza la pianta. In un suo messaggio circolato in una chat di comitati cittadini infatti si legge che l'assessora non vuole spendere decine e decine di migliaia di euro dei soldi dei cittadini così allegramente concludendo che se le perizie confermano il rischio di schianto della pianta l'acero di Garibaldi verrà abbattuto. Come cittadina assisto basita al dibattito sullo sfalcio per difendere la biodiversità e invece ho assistito a distruzione del giardino di Baiamonti, assisto quotidianamente a tagli di alberi monumentali siamo costretti ogni volta a difenderne uno, quello che riusciamo a individuare però è diffusa nella città la sensazione che gli alberi vengano tagliati e non curati. La richiesta è quindi quella di una perizia indipendente per valutare le condizioni della pianta e allargando il discorso effettuare un censimento più ampio di quelli che sono gli alberi monumentali della città al momento registrati sono solo 25, un numero decisamente inferiore a quella che è la vera fotografia di Milano. Io vengo tutte le estate ad innaffiare il giardino, questo albero non può essere tagliato, non può perché fa parte del quartiere, del panorama, della bellezza di questo luogo. Non può, il comune non può farlo. Io mi riterei veramente defraudata da questa operazione. Sono partiti nelle scorse ore i lavori per il rifacimento, restai lì in di corso Buenos Aires a Milano i primi cantieri tra via Pergolesi e via Scarlatti. Da una parte i cantieri di Loreto, dall'altra quelli per il rifacimento di corso Buenos Aires. Erano questi i due progetti che spaventavano il commercio di una delle principali arterie dello shopping in città e che oggi sono formalmente partiti. Già solo formalmente, perché quelli di Piazzale Loreto in realtà sono al momento congelati dal caos giudiziario che ha colpito l'urbanistica del comune di Milano. Ma nelle scorse ore Ruspe e Bulldozer hanno iniziato a lavorare sul grande corso dove il piano a più fasi del comune promette di restituire ai milanesi una strada più godibile a piedi e in bicicletta, più verde e meno caotica. Si è partiti con il lato dei numeri dispari tra via Pergolesi e via Scarlatti e se il cronoprogramma verrà rispettato, gli abitanti e i commercianti di zona dovranno arrendersi all'idea di sopportare un anno di martelli pneumatici e betoniere. Tanto infatti dureranno i lavori almeno fino alla fine del 2025. La seconda tappa sarà invece la parte più centrale del corso, quella che si getta in Piazza Oberdan. Lì le macchine da cantiere inizieranno a lavorare alla fine di luglio, non prima, e poi via via progressivamente tutto il corso, a tappe, per evitare di intasare il traffico ma anche di danneggiare i commercianti. Ma cosa ne uscirà? Un corso Buenos Aires più verde, con alberi alti fino a 3 metri, contenuti in grandi vasche e concentrate soprattutto nel tratto iniziale, ma anche marciapiedi ampi, sedute, panchine, una ciclabile tutta nuova e protetta. Insomma, un vero e proprio boulevard. Il progetto, per come strutturato, non esclude che tra qualche anno si possa anche iniziare ad immaginare un intervento più radicale, come ad esempio una pedonalizzazione totale, un'opzione che non sarebbe sgradita ad alcuni. Per il momento però è il momento dei lavori e dei cantieri, i cui effetti saranno visibili soprattutto a partire da settembre, quando cioè il traffico, così come l'intera città, andrà a pieno regime. Solo allora si capirà dunque se aveva ragione chi ha sempre paventato la paralisi della circolazione e dunque del commercio. Grazie a tutti.